Ma che stai facendo Rihanna? Prendili, prendi! Modalità Rihanna Todis! Ah no, quello è Lidl Siamo qua al Todis, c'è anche la mia mamma, mini gallette Abbiamo trovato un reparto tutto gluten free biologico, bellissimo Siamo tra Todis e devo comprarmi un po' di cose bio, anche di cosmetici E comprati Prontica e radici di liquida, depurativa Comunque è bello questo reparto, sai? Che cos'è questa? La piadina senza glutine Ci sono tante cose belle Ci sta lo strutto dentro e allora la posiamo Vediamo qua un po' questi biscottini Questi guarda, queste sono le mini gallettine con il cioccolato Ah, non conviene a loro E il succo bio a papaya? A mirtillo? 5,39 euro, è troppo assato No, mia mamma è molto economica Quindi non lei compra tutto il segno Dolcificante, ma questo poi contiene tutto il segno Sodium Sodium E' buono Guarda qua, crema di pugna Ma... Che sta arrivando in Francia? Ah, gluten free E' bello Vedi se sono single quelli che comprav io in Francia Vedi, non ci dovrebbe essere l'oro di panna Queste sono buone Gocce di cioccolato E che sta venendo a 3 euro? Dolcificante Amido di mais Vediamolo in questo caso Senza l'oro di panna Che sta a fare? 3 euro e 4 Non hai visto queste cose? Vediamo le due Uno c'è 5 euro a me Ah sì, questi sono buoni Vediamo le pure a me Pure di quelli che hai preso da mamma voglio Questi sono quelli di avena Questi sono buoni Con le prugne? No Mische e prugne Sì Ma io voglio quelle normali E non ci sono Ma non sono di avena Questi sono quelli che ci prendiamo noi ad avena Ecco, questi qua rosa Ragazzi, guardate che ho trovato anche carbone vegetale Solo 2,39 Così vi potete fare la mia maschera A viso che vi ho fatto il video sul primo canale Hai visto Nancy, guarda Posta proprio poco Quanti ce ne stanno dentro? E' questa crema alle nocciole Solo 3 euro Vedi, vedi Ma è pura? O ci sono altre cose dentro? Mmm Ci sta anche dolcificanti Oli vegetali Eh Vabbè Vabbè Poi c'è il miele Questo è buono Questo miele bio Una bella roba, eh Li sono soffiato Questa non è male Questa pure è buona Cioè, non è concentrata Però c'è l'olio di girasole Invece dell'olio di panna Eh vabbè, già è meglio, eh Senza olio di panna Senza glutine È buono Il cirupo d'agave Che io l'adoro Questo proprio dolcificale E l'olio Com'è questo olio Ma Lo prende? Io tengo Allora no Sì Tutto il cioccolato Tu l'hai preso Le gallette di cioccolato Questo fondente Questo è buono Le gallette sono piccole Eh, sono piccole Un euro Ma non conviene Però il cioccolato prendilo Prendilo anche per me Sì, sì Comunque questa pasta conviene, eh Perché sta a un euro Sì, sì Ah, c'è una pasta Anche tu l'abbia oggi con un euro Ma mi chiamano? È bibide poco su No, ma Non sono buone Sono queste schifesse Ma le bibide Tutte cioccolate Hai sempre cosa al cioccolato? Sempre Nenti Cioccolatina nostra Questi sono cereali al cioccolato fondente Senza olio di palma C'è solo un po' di zucchero Ottimo Bellini Anche latte di cocco La farina di farro Guarda Lito basmati Lito basmati E poi ho preso questa qua La farina di mais Ci sono pure tutte queste cose veggie Tofu Setan Naturale Queste sono senza olio di palma Controllate Glutine Farina L'extravergine Sì, eh Sono buoni che sticcano Quante costano? Setan a natura Quale? Solo uno Ce n'è Ecco Ma perché sticcano? Veggie mini burger verde No Sì No Mi riservo Ye 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 Abbiamo trovato anche delle gallette troppo troppo simpatiche Quali sono? Queste con la quinoa Questa con i semi di finucchio Queste sono belline con i semi di finucchio Non l'ho mai vista Di questa Masta Fiorentini che è molto molto buona Ah pure con i semi di chia Ma sono scherziosissime queste gallette Di mais con i semi di chia Di sega Di sega Bello Questi sono di sega No ma ci sono tantissime Wow E anche questi qua Che ti ricordi? Questi sono... Guarda, le pre di prinsca Questi qua sono i snack quelli la piccolini Pure sono carini Guarda, pizza Le vediamo Sono troppo troppo carine Ma aspetta, sta facendo Rihanna Prendili, prendi Modalità Rihanna Ye 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 Guarda che ho trovato Nenzi, carta igienica umidificata Sono tipo le salviette Ti giuro, sto sotto qua Non è così Io le compro È sempre bella questa cosa rinfrescante Cosmetici Yeee Arrivati finalmente il reparto cosmetici Adesso mi vuole guardare Un po' tutte queste cosine Questa ad esempio non mi pare che c'era un'altra volta No, è nuova Queste si devono controllare bene Ma queste sono piene di silicone Non vanno bene Crema mani e unghie Questa Pure qua c'è il dimeticone Invece poi c'è la linea nuance Che questa dovrebbe essere abbastanza buona Adesso mi controllo tutto Ah ci sono delle cose nuove Tipo questo è nuovo? Sì Tutte cose nuove Queste anche si devono controllare Eeeh Adesso mi controllo tutto Ah ecco qua ci sono le cose gentri Guarda Nenzi Tutto qua dietro Vedi quante belle cose Sono nuove questi Questi sono tutti nuove Bassa mordino Pagno doccia Questi dobbiamo controllare Lo shampoo nuovo Dobbiamo controllare tutto 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 Belle cose che stanno Evviva Todis Ecco qua ci sono anche le creme Queste che vi faccio vedere sempre Io ho la creme tratante lenitiva Che questa è ottima L'ho utilizzata anche nel viso appunto Della maschera viso che ho fatto io Per lenire Poi c'è qua anche questa all'osso di zinco Che è anche ottima Anche per i bimbi Posto depilazione Uuuu Andaro Todis Qui da Todis è tutto Abbiamo speso tanti soldi Tanti tanti soldi Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto E mi raccomando se vi è piaciuto Lasciateci un bel pollice in su E ci vediamo al prossimo video Anzi ai prossimi video Video sui cibi che abbiamo comprato su questo canale E sui cosmetici sul primo canale E un bacio grande Iscrivetevi se ancora non siete iscritti Ciao da tutti Ciao 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 Grazie a tutti.